oggi 12 maggio primo corcino per me sono venuto a prugnoli però prima sono fermata a vedere un posto ciao saluto massimo al primo sempre un bacio ciao dopo lo scappottamento anche un altro altri due anzi uno non l'ho filmato comunque andiamo a fare così ciao ecco l'altro ma non è venuto i prugnoli ma va a finire a trovare 4 o 5 bello ciao